Sugli stessi terreni di gioco, gioca la Ternana, sono gli stessi a rotazione. Io penso che un uomo di calcio come lui non può essere soddisfatto della prestazione del Bari. Mi prendo la responsabilità di quello che dico perché noi siamo persone intelligenti, i tifosi sono persone intelligenti e se lui è contento del primo tempo che ha disputato il Bari, allora prepariamo i tifosi del Bari a vedere un girone di ritorno, non all'altezza del blasone e non all'altezza dei 113 anni che questa settimana ha compiuto il Bari. Noi dobbiamo chiudere. Una chiosa, Francesco? Sì, dichiarazioni sicuramente che lasciano molto perplessi. Sembra che noi vediamo una partita diversa da quella che vede il nostro allenatore. Che deve avere un po' più di rispetto nei confronti della piazza. Sì, è brutto.